Il Consiglio Comunale di Cuneo 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 Per questo io chiedo a voi carissimi concittadini di aiutarmi, aiutiamoci insieme per dare alla città di Cuneo quello sviluppo che merita, una città straordinaria nella quale è bello venire a vivere e quindi è bello già per noi che abbiamo oggi questo privilegio viverci.